Immigrazione clandestina per finanziare azioni terroristiche o per permettere ai combattenti del fondamentalismo islamico di entrare in territorio europeo. Al momento è solo una ipotesi, ma è quello su cui sta lavorando la direzione distrettuale antimafia di Bari. Le coindagini, in collaborazione con la Digos, hanno portato ieri all'arresto di un cittadino iracheno di 45 anni, Majid Muhammad, presunto basista degli jihadisti. L'uomo viveva in Puglia da meno di un anno ed era stato già condannato in via definitiva dalla Corte di Assise di Milano per terrorismo internazionale. Dopo aver scontato dieci anni di reclusione, era stato trasferito nel CIE di Bari per l'espulsione, ma dopo aver vinto un ricorso, era tornato libero nel gennaio scorso. In base agli elementi raccolti dalla Digos e dal Servizio Antiterrorismo, coordinati dal PM Roberto Rossi, l'iracheno avrebbe favorito negli ultimi mesi l'ingresso in Europa di soggetti collegati al gruppo di Ansar al-Islam, una delle cellule terroristiche più pericolose al mondo. Sarebbero almeno dieci le persone indagate, ritenute vicine all'organizzazione jihadista fondata nel 2001 in Norvegia e con basi anche in Italia, a Parma. Una volta libero, il 45enne avrebbe ripreso i contatti con la cellula emiliana, utilizzando come luogo di intrattenimento e socializzazione una kebaberia nei pressi della stazione centrale di Bari. L'indagine è partita da una perquisizione fatta nel febbraio scorso in un appartamento nel centro del capoluogo, dove abitava l'iracheno, al cui interno è stato ritrovato un quaderno su cui appariva il nome di Bessama Yaci, imam del Belgio processato a Bari per terrorismo internazionale. Nell'abitazione, gli agenti hanno rinvenuto anche diverse cartoline postali riportanti frasi in lingua araba. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di messaggi scambiati durante la carcerazione con altri detenuti, tutti accusati di terrorismo.